Il 19 luglio del 1919 il cielo di Ostia è solcato dai dirigibili dell'Aeronautica di Stato. Una serie di fotografie scattate dal servizio fotografico dell'Aeronautica a bordo del dirigibile M, se in volo mostra lì. Scavi di Ostia antica, della città romana, grazie alle grosse campagne di scavo. Condotte dapprima da Dante Valieri fino al 1913, e poi proseguite da Guido. Calza, è stato portato in luce il settore della città a Monte del Decumano Massimo, in direzione del Tevere, il complesso delle terme di Nettuno, il teatro e il piazzale delle corporazioni e poi l'area sacra dei quattro tempietti e tutto il quadrante compreso tra il Decumano Massimo e via dei Molini, con l'immenso spazio dei grandi Orrea, e ancora, l'area centrale della città, a partire dalla porta settentrionale del Castrum fino agli edifici. Immediatamente a ovest della piazza del Foro e del Capitolium. Dall'alto a Tare nitida immagine della città antica. E questo provoca. L'entusiasmo di uno. Dei passeggeri di quel volo del 9 luglio 1919, il quale scrive siamo stati, in vista. Di ostia in vista della sacra bocca del Tevere, a trarre gli auspici per le nuove fortune dell'aeronautica italiana. Gloria ai dirigibili, in guerra e in pace. Il passeggero in questione era il Vate, il poeta Gabriele D'Annunzio. Caput Mundi e iniziativa con la quale ogni settimana insieme a Museo. Nazionale Romano, Parco archeologico. Del Colosseo, Parco archeologico. Dell'appia antica e soprintendenza. Speciale Roma raccontiamo la storia di. Roma capitale dal 1861 ai giorni nostri attraverso le immagini degli archivi fotografici.